confettura di fichi semplice ma estremamente sfiziosa e buona che cosa ci occorre per preparare questa confettura un chilo di fichi 3 limoni 200 grammi di zucchero acqua quanto basta quindi cominciamo leviamo il picciolo e li cominciamo a sbucciare in questo modo la confettura di fichi con cosa la possiamo abbinare dunque io l'ho utilizzata già per fare una fantastica crostata facendo in questo modo alternando la confettura di fichi con pezzi di fichi freschi e poi coprendo il tutto con una crema che va cotta in forno direttamente su una base di pasta frolla oppure con dei formaggi magari dei formaggi erborinati ecco qui ho finito di togliere la buccia dai fichi e cominciamo la cottura accendiamo il fuoco prendiamo tutti i fichi e li mettiamo nella pentola hanno una capace verrina da conserva ecco qui aggiungiamo un po di acqua per non far attaccare i fichi al fondo della pentola questa è una confettura che deve essere molto tirata dobbiamo cercare di levare il più possibile il liquido quindi adesso andiamo aggiungere il succo di limone la scorza e lo zucchero copriamo e a fiamma vivace per 40 minuti aggiungo un cucchiaio di succo di limone mescolo per amalgamare bene ne metto un altro e l'ultimo il terzo mescoliamo ancora sono a fiamma moderata per cuocere ad agio vado a grattare la scorza di limone direttamente nella pentola mescoliamo un altro po' dopodiché aggiungiamo lo zucchero 200 grammi era la quantità necessaria visto che i fichi erano notevolmente maturi non vado ad aggiungere tutta la quantità dello zucchero adesso ma aspetto un po' mescoliamo bene e aspettiamo che lo zucchero si sciolga copriamo e aspettiamo 40 minuti sento lo scoppiettivo della pentola quindi vuol dire che la confettura è quasi pronta abbassiamo la fiamma facciamo ridurre ulteriormente qualche minuto io ne assaggio un po' per vedere se sarà necessario aggiungere altro zucchero penso di no però non si sa mai assaggiamo un altro po' di zucchero lo mettiamo comunque buonissima mescoliamo bene aspettiamo qualche minuto affinché lo zucchero si sciolga e poi sono pronta per invasare questa confettura di fighi ottima ha un profumo molto buono gradevole invitante andiamo a prendere il barattolo questo qui con la chiusura a vito scelto vi siete ricordati di sterilizzare? vi ricordate come si fa? guardate questa confettura di fighi è molto bella anche perché si vedono tanto tutti i semini quindi non la passerei assolutamente nello shinoise però c'è chi piace anche solo una purea trasparente e limpida quindi a vostro gusto io la trovo molto bella così e quindi la lascerò così l'aspetto è molto gradevole e il profumo è delizioso e molto invitante non c'è nemmeno bisogno di frullarla perché i fighi hanno raggiunto una giusta consistenza sembra quasi una purea qualche colpetto per levare l'aria e chiudiamo ermeticamente capovolgo il barattolo per effettuare il sottovuoto e aspetto che si raffreddi a temperatura ambiente dopodiché lo andrò a riporre nella mia dispensa al fresco e al buio al riparo dalla luce questa è una conserva che può durare due o tre settimane una volta aperto il barattolo grazie a tutti Grazie a tutti.